Un caro saluto da Mario Giuliaci. Che tempo farà in questo fine settimana? Bene, il caldo sarà ancora l'assoluto protagonista. Caldo al nord con valori di 36-37 gradi su Lombardia ed Emilia. Caldo al centro con punte di 36-37 gradi su Toscana, Umbria e Lazio. Caldo anche al sud con punte di 36-39 gradi su Puglia, Lucania e Sardegna, punte di 40 gradi sulla Sicilia. Per quanto riguarda i fenomeni non sono previsti temporali al centro sud, temporali invece domenica, temporali per i pomerciani sulle Alpi e sulla Valpadana a nord del Po. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.